buongiorno carissimi membri oggi ho l'onore di stare qui con un eroe non so se lo conoscete vedete un po ciao ragazzi un saluto a tutti gli italiani lui è luigi spina l'eroe che ammazza tutti quanti fate i bravi e mi raccomando forza italia e soprattutto vorrei salutare luigi un grande saluto a tutti gli italiani del gruppo uniti in australia e all'altro gruppo di affitti lavori e corsi a me il nome era troppo lungo si è dovuto scrivere così ragazzi ciao ragazzi e buona giornata ciao saluto a tutti grazie per la solidarietà e l'affetto ricevuto da parte vostra e luigi che verrà anche a casa italia quando apriremo quando si rimetterà e quindi sarà il benvenuto ciao a tutti e buona giornata a presto ciao